Ma pericoloso, perché resta lì ed eccolo il pareggio, lo realizza Agudelo al ventesimo minuto, 1-1, letteralmente è cambiata la partita, negli ultimi 60 secondi, la terzata decisiva l'ha data qua a me con il suo ingresso, Agudelo, che viene Agudelo, Piazzella, sinistro, vincente alle spalle di Gerone, c'è anche un giallo per le proteste, le fine delle Brescia, attenzione perché a questo punto potrebbe venire completamente la partita, esce tutto da questa...